ciao a tutti e bentornati sul canale oggi nuovo video recensione ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando questi prodotti ripeto non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io voglio recensirvi questi due prodotti parliamo dello shampoo della l'oreal elvive e questo è argilla straordinaria shampoo idratante e poi del balsamo sempre della l'oreal sempre dell'elvive olio straordinario balsamo nutriente partiamo dallo shampoo questo shampoo è nuovo l'ho preso ieri per la prima volta e l'ho appena utilizzato in pratica è uno shampoo all'argilla e senza siliconi e promette di mantenere i capelli puliti per 72 ore contiene tre tipi di argilla delicate come è specificato in basso nella confezione 72 ore di capelli puliti e leggeri lunghezze fluide idratate capelli che splendono di vitalità e per capelli normali andiamo a leggere che cosa c'è scritto dietro la confezione l'oreal pari elvive il trattamento esperto per sublimare ogni tipo di capello le specialità dei capelli normali il segreto per purificare idratare la capigliatura per 72 ore per la prima volta i laboratori di l'oreal pari hanno combinato tre argilla delicate per mantenere a lungo la bellezza dei tuoi capelli 72 ore di purezza e leggerezza capelli incredibilmente freschi lunghezze profondamente idratate fluide fino alle punte capelli che splendono in vitalità puliti e brillanti risultati quello che promettono delicatamente purificata profondamente idratata la capigliatura resta fresca come il primo giorno per 72 ore consigli per l'uso riportati sulla confezione allora applica sui capelli bagnati massaggio accuratamente l'intera capigliatura poi risciacqua per un risultato ottimale completa la tua routine di bellezza con il resto della gamma argilla straordinaria all'interno della confezione ci sono 250 ml di prodotto io in realtà non seguo questa indicazione appena letta e cioè ho seguito le indicazioni che invece sono state riportate in un video pubblicitario sempre della l'oreal pari magari vi lascio giù il link nell'info box se vi interessa in pratica inserisco all'interno di un dispenser 20 ml di shampoo e 20 ml di acqua fredda lo agito e vado ad applicare direttamente sulla cute ancora con i capelli asciutti questo composto ottenuto massaggio e inizio a frizionare in modo che si inizia a creare la schiuma dopodiché aggiungo pian piano dell'acqua tiepida in modo che riesco a far arrivare lo shampoo e friziono fino alle punte una volta che ho cosparso tutti i capelli con la mistura di shampoo e acqua risciacqua completamente con dell'acqua tiepida e poi proseguo con la pettinatura e la messa in piega post shampoo questo è il risultato appena ottenuto i capelli sono morbidi sono lucenti ora però devo vedere quanto effettivamente durano se effettivamente durano 72 ore come riportato sulla confezione mentre per quanto riguarda il balsamo questo lo sto utilizzando già da parecchi mesi e mi ci sto trovando molto bene bisogna fare attenzione perché è uno shampoo all'olio e avendo i capelli misti diciamo che l'olio è abbastanza pesante quindi ne uso veramente pochissimo olio straordinario balsamo nutriente nuovo nutre senza pesantire la cute più fibra semi di crooli di fiori preziosi nutrizione leggerezza morbidezza eccezionale luminosità straordinaria per capelli secchi e spenti ho iniziato ad utilizzare questo balsamo perché quest'estate dopo appunto essere stata al mare i capelli avendo i capelli tinti e quindi trattati erano un po' secchi e un po' spenti invece di stare lì soltanto a tagliarli perché comunque le punte erano quasi bruciate dal sole non solo ho fatto quello ho cominciato ad utilizzare questo shampoo e infatti i capelli si sono ripresi tranquillamente le specialità dei capelli secchi o spenti capelli secchi o spenti sono spesso privi di vitalità opachi e rigidi per i capelli pieni di vita è necessaria una nutrizione mirata sulla fibra a partire dal cuoio capelluto io per esempio non lo metto sul cuoio capelluto non lo metto alla radice ma metto il balsamo con capelli bagnati a partire da metà e quindi soprattutto massaggiando le punte e poi ovviamente risciacco con acqua tiepida i capelli secchi o spenti sono come riempiti di vita sublimi in ogni singola sfaccettatura sentite una fibra nutrita e leggera toccate l'infinita morbidezza ammirate la luminosità straordinaria io mi trovo benissimo con i prodotti lore in generale siccome questo è la prima volta che l'utilizzo diciamo che rimandiamo un consiglio se usarlo o meno perché al momento non so se consigliarlo l'ho appena provato mentre per quanto riguarda il balsamo mi sento di consigliarlo in quanto è un prodotto valido sono passati alcuni giorni da domenica quando ho registrato il video e quindi ho effettuato la prima prova di questo shampoo della l'oreal e posso dire che dopo 72 ore come potete vedere i capelli sono ancora puliti e lucenti certo non sono belli brillanti e setosi come il primo giorno però il risultato è esattamente quello che promette 72 ore di lucentezza e pulizia per me il prodotto è ok ovviamente continuerò ad utilizzarlo e se noto qualcosa di diverso ve lo faccio sapere la mia recensione termina qui vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi sui canali social trovate qui i canali a cui sono iscritta quindi ciao e alla prossima